Ciao e benvenuti in questo nuovo video sulla letteratura inglese. Andiamo a scoprire un episodio di Beowulf che è veramente drammatico, la battaglia contro Grendel. Andiamo! Andiamo a vedere questa drammatica battaglia contro Grendel. Grendel che è il mostro, vi ricordate, che sta terrorizzando i Danes. Quindi abbiamo in questa prima parte del testo una descrizione del mostro di Grendel come feroce mostro brutale, quindi tutti i verbi che vengono usati sono legati alla bestialità, la ferocia trangugia il sangue dei soldati che ammazzano, una cosa disgustosa. Poi vediamo che c'è un ampio uso di Kennings, cioè le combinazioni di sostantivo e aggettivo per descrivere i personaggi, senza ripetere tutti i nomi ogni volta, quindi Beowulf, Grendel, Beowulf, Grendel, vengono descritti in maniera diversa. Infatti Beowulf compare una volta solo in questa prima parte, mentre Grendel viene descritto come the creature all'inizio, poi Beowulf come the alert hero e poi di nuovo Grendel come the captain of evil e quindi ci sono queste variazioni. E infine la forza fisica di Beowulf in questa prima parte è descritta come inimitabile, sovrumana e infatti a mani nude riesce a aggredire il mostro. Ce la farà il nostro eroe? Vengono in suo soccorso nella seconda parte i soldati di Beowulf, che sono talmente eroici che non esitano a sacrificare la loro vita pur di provare a combattere il mostro. Cosa che però non sanno è che le armi sono perfettamente inutili, perché solo l'eroismo di Beowulf a mani nude riuscirà a sconfiggere il mostro. A livello stilistico notiamo che ci sono molti enjambant, cioè il concetto da un verso viene concluso nel verso successivo. E notate un altro canon qui, their demon opponent, e quindi un'altra descrizione di Grendel come questo essere demoniaco. E infine riusciamo a sconfiggere il mostro grande Beowulf a mani nude, di nuovo appunto. C'è un ampio uso di allitterazioni in questa parte, quindi sinius split, bone lappings burst, Beowulf, granted glory, Grendel, fenmen's fatally hurt, e quindi c'è questa ripetizione dei suoni consonantici. La descrizione è molto cruenta, un po' come nella prima parte con quello che faceva Grendel ai soldati, anche qui la sua morte viene descritta molto nel dettaglio, e vengono nominati sia Beowulf che Grendel per nome. Infine celebriamo la gloria di Beowulf, che è the man who had lately landed among them, quindi che era arrivato da poco tra loro proprio solo per aiutarli con il mostro, proud and sure, viene celebrato il suo courage nel verso finale, e anche ci viene data l'ambientazione di luogo e di tempo, quindi the hall at night. Andiamo a vedere un riassunto di tutte queste cose che abbiamo appena detto. Beowulf vs. Grendel This text describes the fight of Beowulf and his soldiers against the monster Grendel. In the first part, Grendel's actions are described very graphically, using adjectives and verbs that give an image of brutal ferocity. Beowulf's name is mentioned only twice in the whole text, while there's frequent use of kennings, combinations of nouns and adjectives to describe the characters without mentioning their names. Beowulf's strength is described as exceptional, unlike any other human being. In the second part, the heroic spirit of Beowulf's soldiers is shown when they don't hesitate to sacrifice their lives in order to try and kill Grendel. But they don't know that weapons are useless against the monster, and their only hope is Beowulf's heroism. Stilistically, we can notice the use of the enjambment. The third part of the text describes in gruesome detail Grendel's death, with the use of alliterations and the mentions of both Grendel and Beowulf by name. The final part of the text is a celebration of the hero, whose courage has saved the Danes. In this part, the setting is also mentioned, the whole at night. Andiamo a vedere alcune parole chiave. Graphically, che non significa grafico nel senso di grafica, ma in maniera molto esplicita, molto visiva. Brutal ferocity. Twice, che vuol dire, vi ricordate, due volte. Kennings, che sono le nostre combinazioni di cui abbiamo parlato prima. Strength, forza. Useless, inutili. Gruesome, che vuol dire, cruento. Final, mi raccomando non final, final. Whose, pronome relativo, che vuol dire il cui. E setting, ovvero ambientazione. E adesso che abbiamo scoperto tutto sulla battaglia contro Grendel, non perdetevi l'ultimo episodio del nostro podcast ex-teens, disponibile su tutte le piattaforme in cui parliamo di tutto quello che riguarda il mondo dei teenager. E se volete scoprire altri argomenti o contattarmi per altre lezioni, non vi resta che segnarvi i miei contatti, seguire il mio canale e guardare gli altri video. See you later!